problemi statici a una palazzina evacuate sette famiglie da condominio di borgo santa maria crisi idrica nel pesarese decisa l'apertura del pozzo del burano incendio in a 14 a fuoco semirimorchio di un tir tramarotte senigallia ex bramante il piano di valorizzazione rivede il progetto della rambla il popolare attore fabrizio biggio ospite del pack di pesaro una buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione serale di rossini news telegiornale di mercoledì 7 di agosto che apriamo con un caso che arriva dalla periferia pesarese quella di borgo santa maria dove sette famiglie sono state evacuate da una palazzina che ha denotato problemi strutturali di staticità vediamo il servizio da ieri sera è scattata un'ordinanza di sgombero temporaneo per sette famiglie occupanti altrettanti appartamenti di una palazzina privata in via monte amiata nel quartiere pesarese di borgo santa maria è arrivata infatti una segnalazione di verifica di staticità per il civico 2 4 il cui successivo sopralluogo dei vigili del fuoco ha portato a decretare le abitazioni come non fruibili è stata quindi disposta all'evacuazione con sgombero temporaneo sul posto anche l'amministrazione comunale con il sindaco biancani che dopo un primo sopralluogo ieri sera si è di nuovo recato sul posto nel pomeriggio con i tecnici comunali e la polizia locale per confrontarsi con le famiglie e trovare soluzioni ad un comprensibile malessere per la situazione creatasi stiamo parlando di un problema che riguarda sette famiglie ma il cui intervento di sistemazione deve essere portato avanti direttamente dai condomini e con noi oggi è venuto l'ingegner paci che sta seguendo i condomini ormai da un po' di tempo e rispetto a quello che ha visto non ci sono le condizioni per rimuovere questa ordinanza che ho fatto ieri sera e quindi purtroppo devo ribadire che per i condomini gli abitanti non potranno entrare in casa neppure questa sera quando dico questa sera almeno non potranno entrare fino circa il 10 di settembre quindi tutto il mese di agosto e non solo perché l'ingegnere ha l'idea previsto di fare tutta una serie di verifiche un monitoraggio per verificare quella che è la quantità del movimento che è in atto quindi nel frattempo però l'ingegnere presenterà il progetto entro questa settimana i condomini io mi auguro che la prossima settimana i condomini approvano il progetto in assemblea condominiale per poi andare a presentare il progetto al genio civile e ovviamente in comune quello che ho potuto dire che sicuramente garantirò cercherò di interfacciarmi anche coi varienti per far sì come dire che il progetto possa essere approvato nei tempi più brevi possibili questo per far sì che ovviamente prima parte il progetto prima le persone possono rientrare mi auguro che questa verifica che viene fatta per circa un mese possa consentire all'ingegnere di fare una relazione che consente magari dal 10 di settembre di poter rientrare alle persone ripeto è un problema tra privati quindi il comune paradossalmente non c'entra nulla il comune però vuole essere vicino a queste persone perché perdere la casa dalla sera alla mattina non è sicuramente una cosa semplice come amministrazione comunale ho ribadito il fatto che noi mettiamo a disposizione la palestra proprio qui sotto a qualche centenaio di metri dove i residenti possono andare a vivere comunque a dormire di notte al momento perché c'è un'ordinanza dove la custodia viene comunque mantenuta in capo i residenti nel senso che i residenti non c'è la polizia che in qualche modo che deve custodire il bene il bene viene mantenuto in custodia viene custodito dalle famiglie stesse e ovviamente loro si possono organizzare anche in maniera differente cioè andare a dormire da qualche amico da qualche parente da o prendere un altro appartamento sta di fatto che l'ordinanza parla chiaro all'interno dell'edificio fino a quando non c'è un'ordinanza che annulla quella che abbiamo fatto ieri sera non si può stare è un periodo sicuramente come di brutto perché siamo anche in agosto quindi anche per trovare i laboratori non sarà semplice però ho chiesto ho dato massima disponibilità a poter anche come amministrazione comunale andare una mano per riuscire quanto prima a risolvere questo problema sarà necessario utilizzare le acque del pozzo burano per far fronte alla crisi idrica che sta colpendo il pesarese perché non sono previste precipitazioni significative nei prossimi 15 giorni e quanto comunicato poco fa dall'assessore alla protezione civile della regione marche stefano guzzi al termine della riunione del comitato provinciale di protezione civile di pesaro urbino che aveva l'obiettivo di verificare la situazione dell'approvvigionamento idropotabile il prelievo dal burano è previsto a partire da venerdì 9 agosto per una portata di 300 litri al secondo sulla base dei dati ricevuti da enel si è appreso che i volumi d'acqua complessivi nei tre invasi di furlo san lazaro e tavernelle sono in lieve aumento grazie alle azioni già adottate come le ordinanze comunali per limitare i prelievi d'acqua edotto pubblico in ogni caso i volumi complessivi degli invasati sono ridotti di circa il 42 per cento soprattutto il furlo perché è stata svasata acqua nei giorni precedenti per aumentare i volumi disponibili presso l'invaso di san lazaro c'è stato un incendio questa mattina in autostrada a 14 poco prima delle 11 fra i caselli di marotta e senigallia dove da andare a fuoco è stato il semirimorchio di un auto articolato il conducente delle tir è riuscito ad accostare in una piazzola e staccare la motrice prima che venisse avvolta dalle fiamme sul posti vigili del fuoco di fano e di senigallia che hanno messo in sicurezza l'ara coinvolta assieme al personale anas dedicato alla viabilità dopo i toni concilianti e costruttivi emersi dall'incontro di ieri fra comune e curia sulla realizzazione del nuovo asilo nido nell'area della torraccia inizialmente destinata alla realizzazione di una chiesa il progetto ora punta ad avere un definitivo semaforo verde domani con l'ultimo consiglio comunale prima delle ferie che metterà al voto proprio la delibera per il cambio di destinazione d'uso dell'area di culto volta a costruire una struttura di asilo nido da 90 posti per un investimento da 2.160.000 euro da cantierizzare già prima della fine del 2024 ci vorrà invece un po' più di tempo per vedere le ruspe in azione nell'area dell'ex bramante grande immobile inutilizzato di largo aldomoro intanto emergono importanti soluzioni alternative alla cosiddetta rambla inizialmente pensata dall'ex sindaco matteo ricci sono partiti in settimana i sondaggi archeologici sull'area dell'ex bramante per dare una seconda vita all'enorme contenitore vuoto che da anni si staglia fra centro e mare su largo aldomoro sono già stati firmati compromessi fra un soggetto privato e cassa depositi e prestiti per un'opera di recupero dell'immobile con due piani sotterranei destinati a un centinaio di parcheggi e tre piani destinati a civili abitazioni un progetto che ha oneri di urbanizzazione strettamente legati a quell'idea della rambla con interramento della statale fortemente voluto da matteo ricci per creare un'unica lunga ininterrotta passeggiata pedonale da piazza del popolo alla palla di pomodoro idea che finora è rimasta sulla carta che potrebbe essere rimodulata perché il sindaco biancani ha chiesto di valutare una seconda soluzione quella della creazione di un grande sottopasso ciclo pedonale largo come tutta piazza aldomoro con la possibilità di creare anche dei locali al momento le cifre dell'operazione prevederebbero 4 5 milioni per l'interramento della statale da valutare la portata economica del secondo progetto e sono invece iniziati la lavori da 546 mila euro per il restauro e consolidamento delle mura storiche di monte ciccardo si tratta del ripristino della passeggiata storica con un nuovo impianto di illuminazione che consentirà di accedere al torre oneste per poi raggiungere la piazza e il centro del municipio aumentano le tariffe dei parcheggi a pesero da questo mese d'agosto diventa infatti più salata la sosta negli stalli blu di centro storico e zona mare il mese di agosto porta il ritocco sulla sosta pagamento nei parcheggi blu fra centro storico e zona mare di pesero un balzello preannunciato dal sindaco biancani giorni fa a margine di una conferenza stampa e che era a sua volta stata anticipata da una delibera di giunta dello scorso febbraio fra centro storico e mare dunque la prima ora di sosta costerà un euro e quindici centesimi e non più un euro e cinque dalla seconda ora di sosta la tariffa oraria diventa di un euro e quaranta centesimi anziché un euro e venticinque un aumento di dieci centesimi per la prima ora e di quindici dalla seconda già attivo e già indicato dalla rinnovata segnaletica così come dalla prova del parchimetro in cui resta invariata la tariffa ridotta di trenta centesimi per la sosta di mezz'ora il provvedimento riguarderà 2400 parcheggi blu presenti fra centro e mare con orari 9 19 dall'undi del sabato e il mantenimento del parcheggio gratuito al martedì nella zona mare ed ora parliamo di sanità di buona sanità a pesaro dove una giovane paziente con perforazione spontanea esofagea per accalasia ovvero un disordine motorio raro è stata sottoposta ad intervento con tecnica endoscopica avanzata cosiddetta poem si tratta di una metodica innovativa ideata in giappone e per la prima volta adottata ed eseguita nelle marche tecnica che prevede l'esecuzione di miotomia esofagea per via endoscopica evitando quindi l'incisione cutanea necessaria nell'atto chirurgico convenzionale la procedura innovativa è stata eseguita dal dottor antonio ciccone specialista della gastroenterologia diretta dall'ast provinciale di antonella scarcelli e proprio a minuti sta per partire la 45esima edizione delle rossini opera festival con le quattro ore della prima opera bianca e faliero che alza il sipario nel ritrovato auditorium scavolini vi ricordiamo anche l'appuntamento di domani quello dell'otto agosto con la seconda opera in cartellone la ripresa dell'equivoco stravagante che riporta il roff al teatro rossini e riporta l'opera al festival dopo il successo di cinque anni fa continua il percorso di formazione al teatro del pac performing art center di pesaro una scuola di formazione aperta in città da giampiero solari paola galassi pac che ieri sera ha avuto un ospite molto speciale vediamo di chi si tratta in questo servizio il teatro il palcoscenico l'arte della recitazione e dell'improvvisazione spiegate alle giovani generazioni il pac performing art center di pesaro dopo aver ospitato fiorello maggio aperto le sue porte di via ciromenotti anche a fabrizio biggio l'altra metà di viva rai due che si è intrattenuto in una chiacchierata con i giovani allievi della scuola di teatro spaziando fra le pieghe della professione fra il proprio percorso personale e sull'importanza di scuole di formazione come il pac visto che recitare è divertente è divertente e i bambini sanno come ci si diverte e il difficile è continuare a divertirsi rimanere divertiti per tutta la vita però è questo il poco il pac ci si riesce quindi io dico io io sarei venuto al pac perché c'ho l'entusiasmo per quelle delle iniziative come questa perché ce ne vorrei perché i ragazzini hanno bisogno di queste iniziative per stare lontani da da dai telefoni continuano dunque gli appuntamenti formativi del pac fondato da giampiero solari che assieme alla moglie paola galassi dopo una lunga carriera da drammaturgo regista e autore fra teatro e tv ha deciso di dedicarsi alla formazione delle nuove generazioni dai bambini fino a chi vuole approcciarsi al teatro in età adulta a un certo punto dopo aver girato e continuare a girare continuare con spettacoli sia teatrali che televisivi ed eventi a un certo punto ho detto sai che cosa sto a pesaro io già stavo a pesaro perché abbiamo creato il teatro stabilire le marche ad ancona e allora abbiamo deciso a pesaro dove ormai venivamo da anni di creare un centro teatrale perché mancava ci sono dei centri teatrali qua però uno che aprisse a tutta l'italia a tutto il mondo si aprisse e così sta succedendo bigio si è intrattenuto anche sulle origini della sua florida collaborazione con fiorello l'ho conosciuto perché ci siamo incontrati per caso pensa guarda questo è incredibile siamo incontrati per caso in via asiago e lui mi ha detto ah grande vieni non ci conosciamo non ci ha mai visti strano perché sai in questo ambiente ci si incrocia sempre ma noi siamo incrociati e di qua di là senti vieni con me mi porta dentro un glass che è che era una specie di glass di vivare due un antesignano diciamo invece siete di qua io dico perché andiamo in onda e dopo un minuto che lo conoscevo eravamo in onda insieme e ci siamo divertiti come dei pazzi e io ho un ricordo incredibile di questo lui è così lui è pazzo lo apprende andiamo in onda insieme e ha fatto bene perché ci siamo divertiti ecco questo quindi è stato il mio incontro con rosario e si avvicina la notte di san lorenzo la notte delle stelle cadenti che avranno sul san barton un luogo privilegiato di osservazione pronta ad una serata delle 10 agosto molto particolare il 10 agosto notte di san lorenzo chiude il sipario su una ricca estate di appuntamenti alla fondazione oasi del san martolo che in dieci settimane ha prodotto 23 eventi nel solco della cultura della natura paradigma in linea la filosofia che sta accompagnando il 2024 di pesaro capitale della cultura un'estate in cui il palco violino della fondazione si è trasformato in caffè letterario ospitando 24 autori autrici in un programma che ha miscelato sapientemente narrativa e saggistica ad attività come yoga pilates e meditazione così come a musica dal vivo e assaggi di specialità del territorio programma trasversale che sarà proprio anche del gran finale del 10 agosto notte dei desideri e delle stelle che si potranno ammirare da uno dei migliori punti d'osservazione del territorio beh il vantaggio di non avere un inquinamento atmosferico e quindi delle luci che ci circondano permettono di vedere le stelle ma poi le vediamo anche attraverso la collaborazione con gli astrofili che ce le faranno vedere ancora da più vicino ancora più gigante ancora chissà se riusciranno a beccare una di quelle che cade essere fortunati che mentre guardi il cielo stellato con questi bellissimi telescopi chissà se si beccherà anche una stella che cade e questo è provare per credere una serata che prevede anche aperitivi al tramonto degustazione di piadine e l'ascolto musicale della discoteca silenziosa e rispettosa ascolteremo la musica con le cuffie quindi questa che si chiama in inglese silent music diciamola come volete è musica in silenzio quindi musica da discoteca ballare e non disturbare ecco questo è un altro delle iniziative che abbiamo già fatto per altre volte qui in fondazione si balla si ascolta la musica questo è rispetto per la natura rispetto per la fauna e rispetto per il mondo che ci circonda e concludiamo il nostro telegiornale andando a ricordarvi l'appuntamento con il teatro dialettale delle giovedì all'arena bcc di fano andiamo a scoprire il prossimo appuntamento continua la ricca estate di spettacoli all'arena bcc di fano che come ogni giovedì accende riflettori sulle commedie dialettali del territorio l'appuntamento dell'8 agosto e con un abitué dell'arena come la compagnia il guitto la commedia arginga passe l'acqua che significa in dialetto andiamo alle terme il nostro caso le terme di carignano noi la commedia di quest'anno è ambientata le terme di carignano che noi nell'immaginazione abbiamo riaperto con una struttura molto moderna durante in questa struttura durante lo sviluppo della commedia succede qualcosa di strano che poi scatena una serie di situazioni sempre più comiche si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news prima di salutarci vi ricordiamo però alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da quello che arriva subito dopo il tg alle 20 il nostro magazine la natura della cultura dedicato alla settimana in corso del progetto capitale al quadrato che vede cantiano capitale per una settimana dal titolo con uno sguardo di terra e luce appuntamento con la natura della cultura magazine che andrà in onda anche venerdì alle 8 alle 13 alle 20 potrete rivedere tutte e tre le puntate della settimana sabato alle 12 alle 19 così come domenica alle 15 e alle 21 e poi questa sera alle 21 e 20 una nuova puntata di amministrando dedicata ai nuovi sindaci andremo a scoprire il terzo mandato del sindaco di urbino maurizio gambini appuntamento come detto alle 21 e 20 e poi come sempre vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali buongiorno rossini che per l'occasione di domani giovedì 8 agosto sarà condotto dalla nostra direttrice emanuela rossi come sempre in diretta a partire dalle 7 e 20 si conclude invece qui lo spazio informativo serale di rossini news vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi